Subito dopo l'insediamento della nuova amministrazione, uno dei primi problemi posti all'attenzione nostra era relativa all'istruzione e relativa alle scuole clusonesi, chiamiamole così. C'è qualche disguido probabilmente anche dato dalla riforma, entrata in vigore dalla riforma Germini, quindi c'è ben da studiare cosa ci dice questa riforma, c'è da adeguarsi alle normative sul territorio, quindi assieme all'assessore Antonella Luzzana e con la disponibilità del dirigente scolastico Mojoli Francesco abbiamo pensato di dover per forza creare, al fine di evitare in futuro uno spopolamento anche dei nostri istituti scolastici, un tavolo di coordinamento, un tavolo di lavoro dove si parla di istruzione e si parla di scuole. Abbiamo preso l'occasione per sabato 25 settembre, ho convocato tutti i sindaci, chiamiamoli dalla vecchia comunità montana, i dirigenti scolastici, gli enti preposti quali la provincia e il provveditore, in modo che si venga a Clusone si inizia a fare un tavolo di lavoro dove si discute appunto di che indirizzi in futuro potranno prendere anche le nostre scuole. Qualche polemica estiva c'è stata sul discorso scolastico, quindi per evitare l'anno prossimo di ritrovarsi nelle stesse condizioni abbiamo pensato che sia meglio anticipare un po' i tempi e quindi iniziare a discutere oggi quello che sarà non l'anno scolastico 2010-2011 ma 2011-2012. Ecco, ribadiamo quindi che l'obiettivo è soprattutto creare coordinamento fra enti, scuole e istituzioni coinvolte. Sì, l'obiettivo è quello, l'obiettivo tra gli istituti, quindi il Fantoni, il Rezzara, il Pacati, il Patronato, gli enti, quindi l'amministrazione, la provincia, il Proveditorato, è proprio quello di riuscire a sedersi intorno a un tavolo e trovare delle soluzioni. Il nostro territorio ha bisogno di offrire questo servizio, quindi ha bisogno di offrire istruzione e competenza. L'obiettivo che ci siamo posti, ma ribadisco assieme anche alle disponibilità dell'assessore Luzzana, è proprio quello di iniziare degli incontri per far sì che i nostri ragazzi e i ragazzi del futuro abbiano un'istruzione e riuscire a trovare anche degli indirizzi particolari delle scuole, perché c'è qualche segnalazione che forse in questo momento dobbiamo trovare degli indirizzi nuovi in merito anche a quello che è il cambiamento sia della vita delle società, sia delle prospettive di lavoro e quindi riuscire a inserire veramente degli indirizzi che possano appagare il desiderio di studio dei nostri ragazzi.